Durante i lunghi mesi della quarantena quasi tutti i reati hanno avuto una brusca battuta d'arresto. I furti in casa erano spariti, nessuna rapina, nessuna aggressione, anche i vandali non si vedevano più. Tutti tranne gli spacciatori, perché la vendita di sostanze stupefacenti è andata avanti come se niente fosse cambiato. A sottolinearlo è stato il procuratore capo di Pistoia, Tommaso Coletta, presentando l'operazione Calispera che ha portato a 17 arresti. Gli spacciatori hanno venduto soprattutto eroina, diventato ormai la droga dei poveri. Una droga ancora letale se si considera che un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo aver comprato una dose a 9 euro. Quattro invece i casi di overdose, sintomo che la droga in un territorio non esteso come le province di Prato e Pistoia è ancora endemica. Gli spacciatori, ha sottolineato il procuratore, sono di origine albanese, nigeriana ed hanno cambiato approccio. Se prima erano i trasportatori delle sostanze stupefacenti, oggi sono gli spacciatori di piazza e i nigeriani si sono allineati con gli albanesi. Un sodalizio purtroppo particolarmente pericoloso.